Ecco in esclusiva per noi TV le immagini di Paolo Andreucci con la sua nuova fiammante Peugeot 208 sulle strade di Orzaglia. Dopo la recentissima omologazione ottenuta il primo marzo, finalmente l'otto volte campione italiano ha potuto infatti provare la nuova Peugeot 208 T16 R5, con la quale sabato e domenica prossimi parteciperà al Rally del Ciocco, la prima prova del campionato italiano Rally. Qui vediamo proprio le primissime immagini dell'auto che Andreucci sta provando sulle strade di San Romano Garfagnana. Dopo un anno di sofferenze, un inferno più che un purgatorio, durante il quale ha accettato di sviluppare la 208 R2 piccola di Casa del Leone, il pilota garfagnino navigato dalla fida Anna Andreussi tornerà ad avere un bolide in grado di competere con i primi della classe. Ricordiamo che come sempre Noi TV seguirà il principale evento motoristico della provincia, con collegamenti in diretta dalle prove garfagnine e speciale a consuntivo nelle serate di sabato e di domenica. Grazie a tutti.